Col tuo amore trasformaci, oh Dio, con la tua forza ti mora tra noi. Bene carissimi, allora aprirei in mano il nostro libro di catechesi, i sacramenti. Abbiamo già fatto un'introduzione caramici sui due sacramenti della guarigione, che sono il sacramento della penitenza e il sacramento dell'olio degli infermi. Sono sacramenti della guarigione perché l'effetto di questi sacramenti sono una guarigione spirituale sicuramente, innanzitutto. Specialmente il sacramento della penitenza ovviamente, ma per quanto riguarda il sacramento dell'olio degli infermi, non di rado alla guarigione fisica. E' connessa anche la guarigione fisica perché attraverso questo sacramento viene resa presente la carità di Cristo che guarisce gli ammalati, come ha fatto durante la sua vita pubblica. Allora noi cominciamo adesso con il sacramento della penitenza, della riconciliazione. Vediamo innanzitutto i vari modi con cui questo sacramento è chiamato. Noi diciamo sacramento della confessione, però in realtà le formulazioni sono diverse, come abbiamo già visto per l'Eucaristia. E ogni formulazione mette in luce un aspetto particolare di questo sacramento che è chiamato sacramento della conversione, poiché realizza sacramentalmente l'appello di Gesù alla conversione e quindi il cammino di ritorno al Padre tal quale ci siamo allontanati col peccato. Cioè si tratta di cambiare strada, lasciare la via dalla rovina e prendere la via dalla salvezza. Viene chiamato sacramento dalla penitenza, poiché consacra un cammino personale ed ecclesiale di conversione, di pentimento e di riparazione del cristiano che ha commesso i peccati. Cioè abbiamo un po' perso questa dimensione, cari amici, che la conversione ha una dimensione penitenziale che ha sempre avuto, lo hanno i Vangeli, lo hanno, pensiamo, alle lacrime di Pietro per dirne una, no? Oppure anche alla Maddalena che divenne una grande penitente. E poi alla penitenza della Chiesa Primitiva, che era presa estremamente sul serio e che durava anche molto tempo. Noi abbiamo un po' liquidato la penitenza con quel pateravegloria che ci ven detto di dire alla fine della confessione. In realtà, cari amici, la penitenza vuol dire compunzione del cuore, pentimento e riparazione del male che si è fatto. E' chiamato il sacramento della confessione, poiché la confessione del peccato davanti al sacerdote è un elemento essenziale di questo sacramento. E' un riconoscimento dei propri peccati animato dalla piena fiducia della divina misericordia. E quindi, cari amici, si confessano i peccati, come dice Catrina d'Assiena, non si vomita il male per poi stare bene, insomma. E' chiamato il sacramento del perdono, poiché attraverso l'assoluzione sacramentale del sacerdote, Dio dona al penitente il perdono e la pace. Quindi, a questo punto di vista, si può chiamarlo anche il sacramento della misericordia, perché la misericordia, in questo caso, si manifesta col perdono. E' chiamato il sacramento della riconciliazione, perché dona al peccatore l'amore di Dio che riconcilia. Come dice San Paolo, nella lettera ai Corinti, lasciatevi riconciliare con Dio. Così, colui che vive, così, colui che ha fatto l'esperienza della misericordia di Dio, poi diventa misericordioso e si riconcilia, non solo con Dio, ma anche con i fratelli. Questi sono i vari modi con cui viene chiamato il sacramento della confessione, cari amici, della penitenza, della riconciliazione, del perdono e della conversione. La quale conversione, però, cari amici? Non bisogna dimenticare che è una dimensione della vita cristiana. Cioè, la conversione è, in pratica, lo stesso cammino di santità. Cioè, i santi poi delineano le tappe di questo cammino di santità, che sono la tappa della conversione vera e propria. Cioè, quando si cambia strada, non si lascia la via della rovina e si prende la via della salvezza. Poi c'è la via della purificazione e del combattimento spirituale più aspro, quando appunto si mortificano le varie forme del male che sono in noi e ci si consolida nel fare il bene. Quindi, anche la nostra volontà diventa più forte nel fare il bene. E questa è la seconda tappa. Quindi, la prima tappa è quella con la quale ci si libera dal peccato. La seconda tappa, come dice Caterina D'Asiena, è quella in cui si bruciano le radici del peccato. La terza tappa è quella dell'unione con Dio, intesa dal cammino di santità. In questa dimensione, possiamo ben dire che la conversione è quella spinta con la quale, cari amici, si lascia il male e il peccato e si arriva al bene. Caterina D'Asiena, una bellissima immagine, dice quando il peccatore si trova nell'acqua morta, cosa fa? Per prima cosa, si aggrappa ai piedi di Cristo, ai piedi della croce, per non affogare. È la prima tappa. La seconda tappa arriva fino al cuore, che è la tappa della purificazione. E la terza tappa arriva fino alla bocca, il bacio sulla bocca. Ovviamente Caterina D'Asiena parla con il suo immagino immaginifico e anche molto femminile, che è quello dell'amicizia. L'amore puro, cioè amare Dio senza aspettare la ricompensa. Sono tutta una serie di, diciamo così, di elaborazioni del cammino spirituale a seconda dei vari santi, però c'è una concordanza nell'indicare le famose tre tappe. Le tre tappe della vita spirituale o del cammino di conversione. O nella prima tappa è quella in cui si lascia il peccato mortale, la seconda tappa è quella in cui si purifica dei difetti e delle radici del male che sono in noi. La terza tappa è quella in cui si stringe con Dio un'amicizia indissolubile. Allora, vediamo cari amici, innanzitutto questo è il tema di oggi. La conversione dura tutta la vita. Siamo a pagina 105 del nostro libro, intitolato I sacramenti. Vediamo. Qualcuno si potrebbe meravigliare, ed effettivamente questo è accaduto, che dopo il sacramento del battesimo, con i suoi mirabili effetti di santificazione, sia necessario un altro sacramento per la remissione dei peccati. Questo è dovuto al fatto che la nuova nascita nel sacramento del battesimo, col dono dello Spirito Santo, poi col nutrimento del corpo e del sangue di Cristo nell'eucaristia, tutto questo, cari amici, questa abbondanza di grazia nel battesimo, nella cresima, nell'eucaristia, non ha eliminato, questa abbondanza di grazia, non ha eliminato completamente la fragilità e la debolezza della natura umana e neppure l'inclinazione al peccato, che la tradizione cristiana chiama concupiscenza, la quale in sé stessa non è peccato, ma vi predispone. Questo è l'insegnamento dogmatico del concilio di Trento, cioè che il battesimo attiene il peccato originale, e si è dato agli adulti anche i peccati personali, ma rimane comunque una conseguenza del peccato, che è la concupiscenza, una certa debolezza della natura umana, una certa inclinazione al male, che in sé non è peccato, ma diventa peccato quando tu la soddisfi. Cioè c'è la spinta alla superbia, allora tu compi atti di superbia, quello è il peccato. C'è la spinta alla lussuria, in sé per sé non è peccato, diventa peccato se lui la soddisfi. Quindi la concupiscenza, che rimane anche dopo il battesimo, in sé stessa non è peccato, ma vi spinge. Questa spinta a peccare rimane dei battezzati, perché sostengano le loro prove nel combattimento spirituale, sorretti dalla forza di Cristo. Cioè, a un momento, il concilio di Trento si chiede perché mai il sacramento del battesimo toglie il peccato originale, ma non toglie la concupiscenza. Cioè questa, come si dice, predisposizione a peccare che c'è nella natura umana, infetta dal veleno del male, e il concilio di Trento, sintetizzando la grande tradizione della Chiesa, dice ad agonem, ad agonem, che vuol dire, la concupiscenza è lasciata per il combattimento spirituale, agone, vuol dire agonia, agonistico, no? È una... agorà, cioè il luogo del combattimento, no? E quindi la concupiscenza è lasciata perché noi, nel combattimento spirituale, con l'aiuto della grazia e con la buona volontà, diventiamo dei combattimenti nel bene, ma non da soli, perché da soli non possiamo fare nulla, dice Gesù, ma sorretti dalla sua forza. Quindi, cari amici, la santità della vita cristiana è nel medesimo tempo opera della grazia e della buona volontà. Perseverando nel cammino della conversione, chi avrà perseverato fino alla fine si salverà. Cioè, perseverando nel cammino della conversione, il cristiano consegue la meta della vita eterna. Cari amici, bisogna perseverare fino alla fine da essere salvi. E guardate, cari amici, che diventando vecchi, non è che sia più facile. Sto leggendo le ultime conversazioni, l'ultimo libro intervista di Benevetto XVI, il quale mi ha molto colpito perché riporta una frase detta in una conferenza da Romano Guardini, quando era anziano. Romano Guardini è un grandissimo scrittore cristiano tedesco di origini italiane, origine in di Verona. La sua famiglia era console in Germania, poi comunque Guardini studiò in Germania, diventò un grande scrittore cristiano tedesco, uno degli scrittori più ammirati anche da Papa Benedetto, Papa Emerito, quale dice che una volta Guardini, ormai avanti degli anni, facendo una conferenza in un'assemblea protestante, disse una frase che lì per lì scioccò tutti, cioè disse da vecchi è più difficile. Io sono rimasto anche io a pensare a questa frase, cioè volevo dire che da vecchi non è che la fede sia più facile, da vecchi è più difficile, disse Guardini. E la cosa colpì molto anche Benevento XVI, il quale appunto parlando di se stesso dice da vecchi vengono meno le forze fisiche e anche le forze psichiche, per cui è anche più difficile vivere la vita spirituale, perché non è sorretta dalla natura umana, ci vuole una grazia speciale, quindi che cosa ragazzi? Quindi capiamo cosa vuol dire chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvo e capiamo il significato delle parole di Paolo che è giunta al termine della sua vita, dice Ho combattuto la buona battaglia, ho conservato, ho terminato la corsa, ho conservato la fede, conservare la fede viva fino all'ultimo istante, senza cedimenti, vincendo l'oscurità, eliminando i dubbi, sperare contro ogni speranza, come dice la Madonna, decisi e forti nella fede, questo è, cari amici, la grazia che dobbiamo chiedere. Quindi, perché soltanto perseverando fino alla fine, noi conseguiamo la meta della vita eterna, lo dico ai nostri anziani che mi ascoltano e molti dei quali sono sostenuti, dico molti dei quali, centinaia, migliaia, perché ce lo scrivono, sono sostenuti dalla preghiera di Radio Maria e nel loro cammino, negli loro ultimi passi verso l'eternità, preghiera che dà loro la consolazione della fede e la speranza della vita eterna. La parola di Dio mette in evidenza l'opera mirabile dello Spirito Santo nei sacramenti dell'iniziazione cristiana. Lo fa l'Apostolo Paolo scrivendo la comunità di Corinto, quando parla del battesimo, dell'Eucaristia, eccetera. Siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito Santo. Bisogna rendersi conto, quindi, cari amici, della grandezza del dono di Dio che ci è stato amato nel battesimo, che avevano conservato, quel dono che io chiamerei il dono dell'innocenza battesimale, che alcuni hanno la grazia di portare fino alla fine della loro vita. Oggi rendersi consapevole di questa grazia, di essere in grazia di Dio, cari amici. Come ha detto la Regina della Pace nel suo messaggio bellissimo che mi ha molto colpito, che ha dato il 2 dicembre, non so se voi ve lo ricordate, però io me lo sono appuntato perché mi ha molto colpito. Il 2 dicembre la Madonna ha detto il mio cuore materno piange mentre guardo quello che fanno i miei figli. I peccati si moltiplicano, la purezza dell'anima è sempre meno importante. Cari amici, i peccati si moltiplicano, la purezza dell'anima è sempre meno importante. Dico i ragazzi, i bambini, i ragazzi, i giovani, pensateci diecimila volte prima di infangare l'anima, prima di sporcare l'innocenza battesimale e dico agli adulti chiedetevi, chiedetevi, cari amici, rifletteteci su quello che ha detto la Madonna, la purezza dell'anima è sempre meno importante. Chiedetevi, cari amici, se la vostra anima è pulita, è bianca come la neve. Dico io guardando questo paesaggio bellissimo che c'è al di là delle nostre finestre. Quindi, cari amici, non dimentichiamo, siamo stati lavati, santificati, giustificati nel nome del Signore. Quindi, bisogna rendersi conto della grandezza del dono di Dio, c'è della grazia santificante per capire fino a che punto il peccato è cosa non ammessa per colui che si è rivestito di Cristo. L'Apostolo Giovanni però afferma anche se diciamo che siamo senza peccato inganniamo noi stessi, la verità non è in noi, perché noi facciamo la svelta a dire io non ho peccato. A questo, ci sono molti che dicono così, ma io ho fatto niente, io sono a posto. E allora ricordiamoci di quello che dice Papa Francesco, siamo tutti peccatori, d'accordo, non tutti nel medesimo modo però. E quindi il Signore stesso che ci ha insegnato a pregare perdona i nostri peccati, legando il mutuo perdono dalle nostre colpe al perdono che Dio accorda a noi. Quindi, cari amici, la santità è un lungo cammino lungo il quale dobbiamo lottare per preservare l'anima pura. In questo cammino è importantissimo il sacramento della penitenza, perché cadiamo nel male, nel peccato, a volte grave, e per ritornare in grazia di Dio, per riavere l'innocenza battesimale, la bellezza divina dell'anima, dobbiamo accostarci al sacramento della confessione. Si comprende quindi il sacramento della penitenza alla luce della chiamata incessante di Gesù alla conversione. Nella predicazione della Chiesa questo invito si rivolge dapprima a chi non ha ancora ricevuto il dono della fede. Cioè la conversione viene annunciata prima di tutto ai non credenti. In questo caso il battesimo è il luogo principale della prima e fondamentale conversione. Molti adulti anche oggi, anche in Italia, ricevono il battesimo e per loro questa è la risposta all'appello alla conversione. Però, dopo, avanzando nel cammino di fede, ogni cristiano è chiamato la conversione continua perché la lotta contro la carne e il sangue è destinata a durare tutta la vita perché, cari amici, la concupiscenza fermenta in noi e se non siamo vigilanti veniamo sporcati dal male. Perciò noi siamo chiamati a essere vigilanti tutta la vita e a convertirci ogni volta che cadiamo. Questa viene chiamata la seconda conversione, cioè tutti i cristiani che sono deboli e cedono al male pensiamo alle lettere bellissime dell'Apocalisse alle sette chiese che vengono rimproverate perché non hanno conservato la santità del battesimo. Questa seconda conversione riguarda tutta la chiesa la quale benché santa e immacolata comprende nel suo seno peccatori. Per questo dice la Lumen Gentium e il concilio Vaticano II ha scritto un bellissimo documento sulla chiesa che si chiama Lumen Gentium e dice per questo la chiesa e ogni cristiano sono sempre bisognosi di conversione e si applicano incessantemente alla penitenza e al loro rinnovamento. La contrizione del cuore è un elemento fondamentale della vita del cristiano quindi non giustificiamoci e diciamo ma io cosa ho fatto di male? No! L'atteggiamento tuo deve essere della contrizione del cuore cioè come dice la preghiera il pellegrino russo il Signore abbia pietà di me povero peccatore ve l'ho sintetizzato così brevemente la contrizione del cuore è un elemento fondamentale della vita cristiana che con l'aiuto della grazia e la fiducia nell'amore misericordioso di Dio è infaticabile nel dichiarare guerra al peccato a proposito delle due conversioni cioè quella con cui entriamo a far parte della chiesa non col battesimo è quella che poi dobbiamo fare ogni volta che cadiamo nel peccato a proposito delle due conversioni Sant'Ambrogio dice la chiesa ha l'acqua e le lacrime l'acqua del battesimo e le lacrime della penitenza quindi dobbiamo assumere nella nostra vita cristiana un atteggiamento penitenziale ma non vuol dire la faccia scura no no anzi vorrei dire la faccia gioiosa perché sperimentiamo la divina misericordia ma non la presunzione di essere giusti ma la consapevolezza di essere delle povere creature che ambicinano continuamente del perdono di Dio quindi cari amici la contrizione del cuore è un elemento che dobbiamo ravvivare tutti i giorni e per quello quando andiamo a letto la sera sarebbe molto importante fare l'esame di coscienza di relato di dolore cioè si tiene viva la contrizione del cuore che è l'elemento decisivo del cammino penitenziale cristiano e dello stesso sacramento della riconciliazione cioè chiedere perdono a Dio ogni giorno dei nostri peccati e poi quando è necessario perché abbiamo commesso un peccato grave oppure quando abbiamo giù di questa grazia o meno una volta al mese dobbiamo costarci sacramento della confessione e Gesù stesso fa riferimento all'appello dei profeti alla penitenza interiore e alla conversione del cuore senza le quali le opere esteriore come il sacco la cenere i digiuni le mortificazioni e persino le preghiere rimangono sterili e menzogniere cioè se non c'è la condizione del cuore cari amici la preghiera scivola via come l'acqua sulle pietre la penitenza interiore è un radicale nuovo orientamento di tutta la vita un ritorno una conversione a Dio con tutto il cuore una rottura col peccato una versione per il male insieme con la riprovazione nei confronti delle cattive azioni che abbiamo commesso insomma cari amici noi guardiamo la bellissima parabola di Gesù quella del fariseo del pubblicano stiamo attenti non fare come il fariseo che va davanti a Dio per dire che lui non ha lui è a posto il pubblicano in fe invece dice signore abbi pietà di me peccatore questo è un atteggiamento della vita cristiana però non un atteggiamento diciamo così triste no un atteggiamento come dire come dice santa e tresina del bambino Gesù no siamo piccoli come bambini amati da Dio e ci sentiamo nelle sue braccia come fanno i bambini sicuri dell'amore misericordioso del padre quindi cari amici la vita cristiana deve essere accompagnata da una parte dalla contraddizione del cuore dall'altra al desiderio e dal proposito di cambiare vita con la speranza nella misericordia di Dio e la fiducia nell'aiuto della sua grazia quindi cari amici la fiducia alla divina misericordia è fondamentale ma questa fiducia alla divina misericordia accompagnata dalla contraddizione del cuore dal proposito di migliorare dal desiderio di un amore più grande che investa la nostra vita dice a questo riguardo cari amici il catechismo della chiesa cattolica numero bellissimo dice siamo al numero 1432 con questo concludiamo il cuore dell'uomo è pesante e indurito bisogna che Dio conceda all'uomo un cuore nuovo la conversione è anzitutto un'opera della grazia di Dio che fa ritornare a lui i nostri cuori facci ritornare a te signore e noi ritorneremo Dio se noi abbiamo questo atteggiamento ci dona la forza di ricominciare e scoprendo la grandezza dall'amore di Dio che il nostro cuore viene scosso dall'orrore e dal peso del peccato e comincia a temere di offendere Dio con il peccato e di essere separato da lui il cuore umano il santo timore di perdere l'amicizia divina il cuore umano si converte guardando a colui che è stato trafitto dei nostri peccati e concludiamo con una bellissima esortazione di San Clemente Romano il secondo secolo dopo Cristo nella lettera ai Corinzi scrive teniamo fisso lo sguardo sul sangue di Cristo e consideriamo quanto sia prezioso per Dio suo padre infatti sparso per la nostra salvezza offrì al mondo intero la grazia dalla conversione quindi cari amici come vedete questo è il primo aspetto del sacramento della penitenza è un sacramento che si inserisce nel cammino di conversione che deve durare per tutta la vita e che sono